ciao a tutti sono zero del clan arditi e questo è il mio primo video commentato su shogun quindi se non viene bene vi prego di perdonarmi però ci provo in questa battaglia che si svolge a golena con il nuovo capitolo foz full of the samurai vede schierai da una parte me e il mio amico tal contro due membri del clan agony psichic e twitchy questa battaglia userei dire che è stata leggendaria per per i tipi di schieramenti di gruppe per il gioco che abbiamo il gioco che si è stato condotto appena carica la partita vi illustrerò le formazioni dei nostri eserciti da che lo compongo e da che sono composte nel mio esercito vediamo da subito quattro unità di orso nero un'unità di fanteria imperiale due cavallerie chicco iari una e due un fucile di tosa per le imboscate e un cannone parrot naturalmente il generale sta dietro perché serve poi nel schieramento del mio alleato vediamo sei unità di orsi neri e un'unità di fanteria di marina francese il generale e due unità di cavalleria chicco iari invece i nostri avversari hanno un esercito molto forte perché mi pare twitchy si twitchy ha tre unità di cavalleria chicco iari anche buona e una fanteria orso bianco due fanteria imperiali no una fanteria imperiale un orso bianco quindi ha due orsi bianchi una fanteria imperiale un lanciare di leva e una fanteria di marina con gittata 150 invece il mio avversario ha un'unità di fanteria di marina unità di royal marines e una di orso nero e uno di bianco due cavallerie chicco iari un cannone amstrong e il generale all'inizio della battaglia si vede subito che il mio cannone comincia a schermagliare le truppe dell'avversario di tal perché per facilitare la sua manovra perché il mio tiro è stato diretto subito sulla fanteria di marina di twitchy il mio avversario cerca subito di secarmi il cannone in modo che così io non possa più supportare il mio alleato io con la fanteria cerco di avanzare nella foresta per guadagnare una sorta di vantaggio mentre il mio alleato cerca comunque di sostenere la mia manovra e cercare di imboscarsi anche lui nella foresta io cerco di fare un'imboscata con la mia cavalleria qui sul fianco e coi fucilieri di tosa il mio amico tal sta cercando di sovrastare la cavalleria del suo nemico e ci sta riuscendo perché è riuscito per fortuna a girare i suoi fucilieri in modo da creare uno sbarramento qui il mio scontro è un po piatto perché io non ho non ho combattuto più di tanto ho cercato di mantenere la posizione per rendere più facile il gioco a tal in questa battaglia in questa parte della battaglia sul mio fianco sinistro la battaglia accesa nel senso la sua cavalleria riesce in qualche modo a fare fuori la mia ea sfondare il lato anche perché era migliore della mia la sua cavalleria però cerco subito di tappare il buco che si è creato e ci riesco momentaneamente però i miei cannoni sono fuggiti e questo mi diminuisce il vantaggio che avevo su questa battaglia vedo che qui il mio alleato talla sfondato sul lato destro e quindi può fiancheggiare tranquillamente l'esercito di tuici mentre a me la soluzione della mia situazione non è delle migliori non erro non è rosia perché sono bersagliato sul generale e sono anche col fianco sfondato però sono riuscito per fortuna a girare dell'unità di fanteria e tappare quel buco insieme al generale il che mi ha garantito di non essere fiancheggiato con la cavalleria che mi avrebbe portato sicuramente alla sconfitta qui tengo una posizione di stabile mentre il mio alleato talla è riuscito a sfondare e a girare con la cavalleria ormai il suo avversario non è non è più invulnerabile perché non avendo più cavalleria non può tentare fiancheggiamenti e quindi diciamo la sorte è un po' segnata mentre qui vediamo che una cavalleria riuscita a passare però davende sul mio lato però è stata massacrata scusate la telecamera che va a bambera ma con la nuova patch che è uscita di foz è un po' incasinata quindi se le riprese non sono al massimo perdonatemi qui talle vince il gioco di sparatoria e quindi i suoi volley sovrastano quelli di twitchy qui twitchy cerca di spostare il suo generale verso il suo alleato in modo che così possa almeno salvare il morale qui le truppe di talle vengono cannoneggiate dal cannone di psici mentre io qui inizio un avanzamento per cercare di comunque di coprire talle che gira e riesco a fare qualche danno seppur leggero al mio avversario qui il volley procede bene dato che con gli alberi c'è un minimo di protezione qualche colpo non entra quindi degli avversari qui sul fianco io sono riuscito a beccare un'unità di orsi bianchi girata e quindi gli ho gli ho sparato un bel volley che gli ha affiaccato comunque il morale però sul fronte centrale le sto prendendo che la mia fanteria sta cedendo però per fortuna il mio amico talle che ormai ha finito l'esercito di twitchy è venuto sul mio fianco e mi ha portato alla vittoria girando il nemico sulla destra io qui sono riuscito all'ultimo a recuperare un cannone e a sparare sul nemico vedete la fanteria che si sta andando a riprendere il cannone qui il tiro procede il mio avversario buon giocatore ha cercato di riformare una linea per rimettersi in qualche modo a cannoneggiarmi e a sparare e ci stava riuscendo se non perché se non per il fatto che io ho preso ho ripreso il cannone e gli ho bersagliato le truppe che erano rimaste con lo shrapnel il che gli ha affiacciato il morale e l'ha sconfitto ormai le mie truppe non vanno più in rotta perché avendo sconfitto il nemico non cedono e continua la mia avanzata ormai la battaglia è quasi finita perché non ci sono più truppe complimenti ai miei avversari che mi sono stati in grado di ai nostri avversari che sono stati in grado di comunque di far darci parecchierogne qui chiudo il mio video spero che vi sia piaciuto e ai prossimi ciao a tutti da zero alla prossima